Lettura della civiltà comunale italiana nella storiografia internazionale a cura di Andrea Zorzi, edito da Firenze University Press. Disponibile per l'acquisto o il download gratuito in formato digitale al link in descrizione. Premessa di Giovanni Cherubini. Ci è sembrato opportuno, quattro anni fa, che il Centro di Studi sulla Civiltà Comunale iniziasse la sua vita con una pubblica riflessione su quella che era stata o non era stata la trattazione e la valutazione da parte della storiografia internazionale di un periodo che ci pareva rilevante nella storia del nostro paese, cioè quello che sommariamente battezziamo come Età Comunale. Quella valutazione ci sembrava tanto più importante a fronte di alcune incertezze interpretative che, dopo trattazioni che ci parevano decisive da parte di grandi storici del nostro paese, avevano cominciato a farsi strada in Italia, forse come conseguenza, ma non necessaria, della nuova, almeno iniziata, Unità Europea. Essa veniva evidentemente percepita come una spinta necessaria all'unità, e non invece come una spinta ad una più profonda conoscenza dei suoi membri, che avrebbe inevitabilmente prodotto un arricchimento per tutti i partner. È anche possibile che il dualismo della storia italiana, così a lungo continuato, un regno nel mezzogiorno, la fioritura delle città comunali nella parte centro-settentrionale del paese, collaborasse in qualche misura a ridimensionare il rilievo storico dell'Età Comunale. Percepimmo come una grave amputazione della nostra civiltà il dover non più sentire come unità quello che nell'Età Comunale fu un'unità effettiva e di alto livello tra partecipazione politica, mondo del pensiero, cultura, slancio e potenza economica. Pensammo dunque, e siamo contenti di averlo pensato, che era necessario ricorrere in qualche modo al sapere degli esperti, scegliendo gli esperti non fra noi, ma in campo internazionale, con una sola eccezione ma di peso, quella di Paolo Grossi, storico del diritto di fama e di meriti. A lui affidammo la trattazione del sistema giuridico medievale e la civiltà comunale, fidando nella sua dottrina e nella sua sensibilità. E ne siamo stati ampiamente ripagati. Non avevamo naturalmente la possibilità di ricorrere ad un numero molto grande di relatori e ci dispiace ancora che siamo stati costretti a lasciare fuori dal nostro esame qualche voce che avrebbe senza dubbio arricchito in modo significativo il quadro. Penso ad esempio ad un possibile studioso dei Paesi Bassi, per il semplice fatto che spesso la storia delle città di quell'area è stata avvicinata alla storia dell'Italia comunale, spesso ha ragione ma qualche altra volta a torto. Penso anche ad un possibile studioso russo, cioè appartenente ad un Paese che ha sempre mostrato uno straordinario interesse per la storia delle nostre città e per le loro realizzazioni. Gli studiosi che fumo in grado di invitare hanno comunque risposto in modo particolarmente interessante alle nostre domande e hanno risposto facendoci anche, almeno per qualche aspetto, la storia culturale dei loro Paesi, rileggendo cioè la vicenda, in questo senso giustamente molto secondaria e delimitata, della storia delle città comunali italiane tra aperture, nazionalismo, simpatie, orientamenti storiografici prevalenti nei loro Paesi. Questa eletta schiera di studiosi, per la maggior parte anche direttamente impegnati sulla storia di quel periodo del nostro Paese, comprende Hagen Keller, che tratta della civiltà comunale italiana nella storiografia tedesca. Si interessa quindi di una storiografia di famiglia, per la comune appartenenza del suo come del nostro Paese, all'area dell'Impero, al di là dei conflitti che allora si verificarono tra i comuni italiani e gli imperatori, e lo fa con equilibrio ed offrendo una larga informazione. A Elisabeth Cruvé-Pavan, apprezzata studiosa di Venezia, oltre che conoscitrice di tutta la vicenda comunale, dobbiamo un profilo sulla civiltà comunale italiana nella storiografia francese, dove vengono presi in esame vecchi studiosi ancora affascinanti come il Sismondi, che hanno fornito quadri di insieme ancora degni di attenzione. Viene poi posta in rilievo una certa lentezza della storiografia francese nell'accostarsi al problema, ma vengono più avanti giustamente poste in rilievo tutte le solide e numerose indagini dedicate alle nostre città, oltre che alle nostre campagne, nel periodo che dagli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale giunge sino ad oggi. Una particolare attenzione viene imposta da Jay Najemi, studi americani sulla cultura e sulla storia sociale e politica dell'Italia comunale, secoli XII-XIV, nell'illustrare quanto sia stato precoce e calda la simpatia degli americani per il nostro Paese, già alla fine del secolo scorso, che si manifestò in particolare attraverso il collezionismo e si accentrò soprattutto sul tardo medioevo di Rinascimento. Nel secondo dopoguerra si sono poi affermati, anche sulla scia di qualche isolato studioso e della sua scuola, mi basta ricordare Roberto Lopez, emigrato in America durante il fascismo ed ivi diventato professore e maestro, interessi larghissimi di studio soprattutto per quelle lontane civiltà comunali e rinascimentali. L'archivio di Stato di Firenze in particolare, ma anche altri, divennerò così si può dire un luogo familiare agli studiosi americani che avvertivano in quelle società, in quella fiorentina soprattutto, una sorta di anticipo delle moderne e contemporanee società borghesi. Anche l'intervento dedicato alla storiografia britannica di John Easton Law, storici britannici dei Freeburgs italiani, da Gibbon a Previtorto, offre informazioni di grande rilievo sulle nostre città comunali, congiuntamente ad un profilo della storiografia inglese. E lo fa con la consueta ironia dei suoi connazionali, emettendo a confronto, ma insieme distinguendo tra gli storici professionisti e quelli che tali non erano, richiamando la precoce simpatia degli inglesi per il nostro paese, per la nostra arte, per Dante e per le nostre libere città comunali, ma insieme sottolineando la difficoltà per la loro storiografia di capire a pieno il rilievo che esse ebbero, così lontano da quello delle città inglesi. Tuttavia egli mostra come dopo la seconda guerra mondiale questo interesse sia aumentato anche nelle università. Ma in questo volume delle novità particolarmente interessanti ci arrivano anche da paesi come la Spagna, che in astratto, almeno da noi, non si sarebbero potuti immaginare come particolarmente attenti alla società comunale italiana. Ed in effetti così fu a partire dal XVI secolo ed in una certa misura si può dire sino ad oggi, senza tuttavia dimenticare quante ricerche magari sui mercanti italiani in Spagna trovano alimento nei nostri archivi. Flossel Sabaté ha scelto invece nel suo saggio sulla civiltà comunale del Medioevo nella storiografia spagnola, affinità e divergenze, di dirci molto di più di quanto ci si sarebbe aspettati. Egli non ci racconta soltanto un rapporto storiografico, ma ci mostra invece quale larghissimo uso ideologico fu fatto da storici o pensatori spagnoli tra il XIV e il XVI secolo, delle città comunali italiane, che esso mostrano di ben conoscere, sia in Catalogna e Aragona che in Castiglia. La loro immagine, la loro forza economica, ben comprensibile in primo luogo ai catalani, ma più ancora il loro profilo politico, fra i tipi di stato e di governo fatti derivare da Aristotele I, quello dell'autogoverno delle città era appunto tipico dell'Italia centosettentrionale, furono utilizzati come modello da ammirare al di là delle sue strutture, sino a che la monarchia spagnola, ormai unificata, non divenne un potere assoluto. Cosa dire dunque alla fine di questa breve presentazione? Da un lato possiamo manifestare, credo, la nostra soddisfazione per un'impresa riuscita ed utile per gli studiosi italiani, dall'altro possiamo avanzare l'idea che il quadro, proprio per la rilevanza di queste nostre lontane città, possa avere una qualche utilità anche per gli studiosi europei, particolarmente per quelli che si dedicano alla ricostruzione del mondo urbano. Ma vorremmo anche riflettere, se non fosse utile, allargare un po' l'esame in direzione di altre storiografie, due delle quali ho più indietro esplicitamente richiamato.